a marco un veicolo speciale da dove mi arriva dalla pegasus ma non è vero mai che ha fatto un disegno se hai fatto un'otto è venuto fuori una stella di satana ahahahahah la volta avevo un pene ma non è ucciso molto bene eh mi hai fatto la punta questa è la palla sinistra bella è qualche malattia ma brutta questa è la palla destra è ancora peggio questo è il mega penone eccolo aspetta ma che è? è tagliato così è malato c'è il tamborezzo la parola il solito il centro per 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 per